Ciao ragazzi è arrivata la mia la mia stessa notifica oh girati capra perché in montagna faremo la postage challenge che nessuno ascolterà perché non te ne sono in diretta però non fa niente domani è già attaccato o no? no, l'ho rifatto vabbè? lo devo allora questo è quello che ha fatto Gianfranco tanto lo so che non si legge mi sicuro il mio sembra un maschio e una femmina il mio sembra più un maschio e una femmina nessuno dei due tocca a te di quel colore marrone ma c'è qua sopra? ma non lo so che ti metto a guardare guardai? mhm guardai tu che ferma? non c'è una specie di granchio mutante grubbler 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 è leggendario vabbè leggendario no? ok Mi sto guardando, vabbè, che colore è? Arancione. Adesso io. Aspetta, arancione, come ho detto? Cazzo è un creste che... Che forma ha? Non lo so, è tipo un mix tra volpe e cane e boh. Allora, cosa sembra? Non lo so, è qualcosa di... una cosa e quattro zampe, dico solo questo perché non so cosa dire. Marrone e quattro zampe. Marrone e bianco e quattro zampe. Marrone e bianco. Adesso non la sai, questa malata. Non lo saprai mai. Scherzo. Luca, adesso tu. Ah, lol. Non so che dire. Colore, ci ho detto, forma, ci ho detto, maschio o femmina sembra. Ci ho detto che non lo so. Ah, ecco. Eh, che colore hai? Guarda. Qua non c'è scritto, ma secondo me sbaglio, Rossi. no. Bulbasaur. No. È arancione, scusa. Ah, è vero. È arancione. Bulbasaur. Eh... te, pig? No, adesso io. Ma è grande? No. Aspetta, è tipo quella specie di caprone? No. Che aiuta... no. Reggi, cocco. No. In quel film, Pokémon. Ah, no. Adesso tu. Ha delle orecchie? Sì, come sono? Non ce l'ho. È vero, un granchio. Cos'altro chi da fare? è vero, un granchio. Beh, non ce l'ho. Perfetto. Ok, adesso. è cattivo non l'ho mai visto in film un pezzino si vabbè fra i pokémon che io conosco non credo c'è forse sì per le carte pokémon le conosci è nelle mie carte pokémon e nelle tue carte ok non lo so perché domanda ma si può guardare di che colore c'è gli occhi marrone guarda che arrivi a rossi di peppa oh c'è un titolo sono youtuber minchia qualità 10 su 10 e cioè che bei video modestamente sono un youtuber non sei no youtube puoi evitare allora una cosa qua cosa c'è scritto e poi non riferisci nei commenti giuseppe scorsano dai quello che stavi solitando giuseppe mica mette mi piace no non li mette mi piace perché lui il tumblr ok adesso io ci sono è uno dei tuoi pokémon preferiti ma sei scemo no poi io vedrei di nuovo giuseppe la scritta invece della tua non faccio vedere hai visto? eh? hai visto? ma non so neanche come si chiama prima cosa eh appunto ecco ci vediamo che hai scritto nei commenti è lui è lui è lui è lui ho messo di slide kaguri secondo me è lui ti riblocco caro mi fa secondo me è lui no ti ho detto che è bianco ma è bianco l'evoluzione oddio ma c'era già lillipop eh? c'era già lillipop in che senso? io ho pensato che fosse solo il lune io ho messo di slide adesso ciao ciao giuso è peppo? si ho messo di slide si ma i tuoi video ti metto di slide poi ti faccio vedere io ti faccio vedere io appena in pace mi ha detto tutto no devo ribloccare prima o meno mi sblocchi mi sblocchi no non ti sblocco caro scherzo comunque tu persone c'è una persona che seconda lillipop è di sole e luna sei stupida o cosa? sono stupida si infatti mi sono rimasto malissimo l'ho visto tipo adesso e ho detto ma qua non c'era cosa di sole e luna allora che il suo è facilissimo l'avrò visto prima volta mi scusassa mi scusassa che vuol dire mi scusassa? non ci parlare è pazzo ti devo bloccare o cosa? ti dico io ti devo bloccare o cosa? ti devo bloccare o cosa? ok basta lillipop è di quinta generazione e io l'ho scoperto oggi è di quinta generazione? vabbè infatti io ho fatto i tuoi adesso ok il tuo pokemon ce l'hai come pupazzo? no 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 ok adesso tu ce l'ho come pupazzo ce l'hai? è una domanda questo? oh no è per caso un pokemon che inizia con la R? no finisce scisa si si ho letto qua ho letto qua non va qua l'ho letto che vuoi chi era? zigzagon chi era? no nelle mie carte pokemon infatti ti ritenevo qua ma lilli proprio dipinto perché era qua eh? regi stelle regi stelle regi stelle non è vero no no lo strappo io vai possiamo scrivere ma cosa si perde? ok regi stelle ma scrivo se non so non so preppe fa il cyberbullismo caro scherzo dai che posso scrivere? preppe ciò ciò si trova su un rotex non te lo do vabbè io vado a comprare un pacchetto di leggende i i di 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 leggende i adolescenti E vai, compratelo. Tanto sai di cosa mi sono comprato. Fregati, frega. E non ho solo questo. Comunque lo vuoi te lo GX o lo non ha la GX? Non te le do. C'è fatto? Ciao, bacchene. Ciao, ciao. Ciao. Auguri. Ok, io la scrivo perché la so cosa scrivere. Ti do una rosa. No, aspetta. E io ti do una rosa. Ciao. Cosa da bambina che come avevo ci gioco ancora perché sennò... Ehi, uuuuuh, mi ha detto un po' come me. Guarda, scrive ciao. Ciao. Allora, io ho scritto... Gianfranco ha scritto questo... Io ho scritto... E io ho scritto quello. Si vede benissimo. Davvero? Si vede benissimo e senza che ci hai messo i capelli sopra e non si vedeva niente. Dimmi se si vede. Ok. Non si vede. No. Allora... Non si vede. Allora, dai, incominciamo. Va bene? Si vede? Sì. Ok. Ok, si vede. Allora, è leggendario? No. Il mio è leggendario. Eh? Il mio è leggendario. Eh, il tuo è leggendario, questo è leggendario. No, il mio è leggendario. No. Eh, non so. Eh, di che tipo è? Oh, acqua o ghiaccio. Adesso tu. Che tipo è? Del... Lago. Adesso tu. Cioè, adesso io. Sì. Cosa? Eh, di che colore è? Eh, blu o bianco? Che colore è? No, sono stupida! Vabbè, puoi ricominciare, vuol dire. Eh, e di che colore è? Eh, grigio... E gli occhi gialli. Ero d'actile? No. Adesso io. Ero d'actile, c'è live, che penso, se non è Giuseppe, se non è Giuseppe, sì, sei stupida. Come te, ma tu di più. Che cazzo, la live è ritardata di 18 secondi. Tu vai a prendere proprio il secondo quello... Ma scusa, vai a prendere i pacchetti e non rompere. Vai a comprare i pacchetti, vai a spendere i soldi e non rompere. Il bello è che non ti potevano accompagnare i tuoi genitori, eh? Aveva paura di me che sono. Eh, di con che lettere inizia? Che devi dire quella cosa? No, ma dai, ma sei... Ok, intanto so che non mi devo fidare. Sto sclerando. Non so. Non farò a scherci una cosa. Hai paura di mettere da solo. Non si lascia. Lo so, si legge il contere, aspetta. Ma... Non so, se ha chiesto, però... Non so, se ha chiesto, però... Sto sclerando, via. Comunque mi voglio mangiare la gabbets. Chicken chicken. No, non parli. Chicken chicken. Facciola mangiare tu il chicken, che c'è già una pancia più grande d'Italia. Chicken chicken. Fucking. Ma che sei drogato? Vado a comprare il cacchio di... Non so come si chiamava. Vai via, va. Vado a comprare il pacchetto e non rompere. Mamma mia. Oh no. Oh no. E' carica di chicken chicken. E' cariati chicken chicken. E' cariati. Tu non conosci cariati. Io? Sì. Cariati è... Ops. Fate questo. Lui? Sì. Lui è Peppo. Guardate ragazzi. Non far vedere. E' fraio, liberazione della privacy. E' liberazione della Peppa. Ho fatto a tenere un po' di cosa. L'hai fatto tu sta cosa così? Sì. No. Ehm. Però dia... L'ho messo bene? Uh-huh. E vabbè 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 ci vediamo mai a scuola. Eh vabbè 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 ci vediamo a mai a scuola. E vabbè 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 a te tranquillo. Ci vediamo a mai a scuola. Vatti a comprare sto pacchetto della leggenda. E non rompere qua e poi io. E' leg shitting. Via. Via. Guarda non se ne vuole andare perché ha paura di... Sì però voglio vedere noi che facciamo. Noi ti vediamo. Da qua. Molto bene. Eh così ne andate. Spiega lo blocco. Sì andate. Sì ma si disliker lo blocco. Spiega. Sì ma si disliker. Sì sicuro. Sì ma si disliker lo blocco. Chikin. 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 Aspetta. Aspetta. ciao tizio che sta guardando la live che sappiamo se il Giuseppe ma l'ho bloccato fanno un messaggio chiunque sei se non sei il Giuseppe perché Giuseppe non gli può mandare messaggi Giuseppe ha paura di andare da solo ma no ma no perché se sta guardando la live io l'ho bloccato non può mandare i miei commenti io ho anche eliminato i commenti purtroppo e se ne ando dalla live quindi la Giuseppe perché mi so che non poteva mandare i messaggi allora se voi conoscete Giuseppe ho poi chiamato Peppo o Peppone non parlateci no lol lolbiz allora scriviamo questo è il round finale comunque chi vuole Tauros GX non ti piace da me non ti piace da me no 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 lo scambio io ma devo scambiare con i tuoi iscritti se sono calabresi oppure vengono qui in Calabria ci sto tanto non c'è nessuno che la guarda chi vuole Lunala GX non Lunala GX Tauros GX ma Tauros GX è mio ma Tauros GX è mio non ti sei presa le carte eh riprenditi le carte che facciamo qualcosa da strano cosa che vendono Tauros GX ti do le carte ti do tu eh si me ne sono ripresa le carte e dove Tauros GX poi Tauros GX così quello così io l'ho distribuito anche chicken chi vuole un tap non è più venite a guardare la live vi sparo ciao non live penso sia Giuseppe scrivi in commento quello che è in live se non può perché Giuseppe perché l'ho bloccato peggio per lui scrivete commenti ci sono uno in live e sappiamo che sei Giuseppe sicuro oppure oppure Giuseppe che è fatto guardi no vabbè non è Giuseppe se sei Giuseppe se sei Giuseppe 31 commenti era Giuseppe era Giuseppe era Giuseppe vabbè ragazzi chiudiamo la live perché se no 23 secondi non c'è nessuno quindi facciamo la live e facciamo Five Night at non lo so facciamo qualcos'altro Five Night at Freddy's 5 no facciamo Five Night at Freddy's 5 se non ci riusciamo facciamo 4 no se non ci riusciamo facciamo il 4 se non ci riusciamo a fare il 4 il 3 non lo facciamo perché ci secca il 2 non lo facciamo perché ci secca il 1 non lo facciamo perché ci secca e facciamo la switch online e chi si con lo vuole con le gare si connette tutti i cani Giuseppe è l'unico che la switch probabilmente dei miei iscritti yeah mi scontatterà su Whatsapp 3 2 1 se forse mi ha scritto lui o mi ha bloccato lui su Whatsapp Giuseppe è sicuro Giuseppe è sicuro Giuseppe è sicuro no no non mi ha scritto non mi ha scritto per fortuna yeah non mi ha scritto chicken 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 e stavo ricadendo la misa non è che è che fa lai non c'è nessuno che guarda lai ancora meglio non è vero non è niente chiudi la la chiudi che va con acqua chiudo la lai